Util a Cava dei Tirreni, prodotti e attrezzature per officine per il fai da te. Contattaci al 393 9305 256. Ancora niente partenza per la Cavese alla volta del ritiro di Nusco. I bianco-blu partirebbero anche subito per poter iniziare la preparazione precampionato, dato che la data del 9 agosto, che era stata inizialmente stabilita, è saltata a causa della non negatività al coronavirus di un calciatore, e sono passati già tre giorni. In pratica il gruppo squadra, quindi i giocatori disponibili e lo staff, oltre ai dirigenti, tutti quelli che hanno fatto il tampone lunedì per essere entrati in contatto col positivo, sono in questo momento in isolamento fiduciario, e sono praticamente nelle mani dell'asla competente, perché in base alle norme attualmente vigenti, spetta all'azienda sanitaria dare l'ok per il trasferimento a Nusco. La Cavese sta applicando scrupolosamente le disposizioni in vigore, di fatti i prossimi tamponi ci saranno venerdì mattina, ma secondo le ultime indiscrezioni, all'Atere il club avrebbe chiesto nelle ultime ore un parere interpretativo, sia al Ministero della Salute, sia alla Federcalcio, perché il protocollo in vigore era stato pensato nella scorsa primavera per le partite di campionato, quindi per l'attività agonistica e non per quella preparatoria, e la prima partita ufficiale prevista per i metelliani è per il prossimo 27 settembre. Peraltro il caso di positività del calciatore della Cavese risulta essere addirittura il primo venuto a galla in fase di preparazione in Italia. In pratica la domanda che si pone è, per la preparazione precampionato, va ancora bene questo protocollo o ci sarà una revisione? Ovviamente nel momento in cui la FIGC o il Ministero dovesse recepire il messaggio e quindi fornire una risposta in merito, questa verrà pubblicata e riguarderà tutti i club in Italia. Nel frattempo la Lega Pro ha comunicato l'elenco dei giocatori che le società iscritte hanno svincolato per rinuncia ai sensi dell'articolo 107 delle Noif. Emerge l'intenzione da parte della Cavese di ristrutturare le proprie formazioni giovanili, dato che sono ben 47 i giovani calciatori che la società ha lasciato liberi di trovarsi un altro club. Tra questi figurano il portiere Trapani, più volte convocato negli anni scorsi ma mai impiegato, il difensore Petrosino, altro giocatore che era stato in orbita a prima squadra per un po', ma che non ha mai trovato spazio, il mediano Osman Tiam che vantava esperienze anche nel Pomigliano in Serie D prima di trasferirsi alla Cavese, il centrocampista classe 2000 Massoud Moreau che i Biancoblu avevano preso in gennaio dal Troina, la punta esterna Gianluigi Chiacchio, rilevato a inizio anno solare dalla Casertana, e l'attaccante Gennaro Conte che dopo essere stato preso a gennaio dalla Nocerina non rientra nel nuovo progetto tecnico. Gli svincolati arrivano fino alla classe 2006.